salve amiche ed amici di youtube spero che tutti voi vi incontriate bene già da tempo volevo fare un video così da quando abbiamo superato le 10.000 visioni per poi non ho avuto tempo poi l'ho voluto fare alle 13.000 visioni non ho avuto tempo e nemmeno di battere un ciglio vi annuncio che abbiamo superato le 20.000 visioni grazie a tutti voi grazie a tutti voi che mi appoggiate nel vedere i video del mio canale nel commentarli e nell'iscrivervi perché forse siamo più di 130 iscritti sono per dire 130.000 magari e quindi è con grande piacere che faccio questo trailer dei video saint jean per ringraziare tutti voi del vostro appoggio grazie amici un abbraccio e a testo salve come va il mando salve cari amiche ed amici qui il vostro saint jean che vi parla salve a tutte e tutti salve amiche ed amici che mi avete seguito fin qui salve tutti salve amiche ed amici di youtube e amiche ed amici in generale e di google plus e di dailymotion e di vimeo salve travaglio care amiche e amici che mi seguite sempre in youtube salve a tutte e tutti amiche amici di youtube salve amiche e amiche ed amici salve a tutte e tutti salve ai nuovi iscritti e a tutti gli altri anche e salve a te o travaglio salve a tutte e tutti amici di youtube salve a tutte e tutti salve a tutte e tutti dopo tanto tempo ritorno con un tutorial di gastronomia casareccia salve care amiche amiche ed amici che mi seguite nel mio canale di youtube salve amiche ed amici che mi seguite nel mio canale mio canale di youtube sante jean care amiche e amici che mi seguite in youtube salve a tutti e cari amici e amici e amici e amici di youtube cari amiche e amici e amici salve amiche e amici di youtube ciao ciao a comunità camale crema clear amici e amici e amici e amici di youtube ciao travaglio cari amici e amici e amici salve Caro Travaglio, salve, buongiorno, salve, salve, salve a tutti, ciao cari amici di YouTube, salve, ciao, salve, buongiorno, salve, salve a tutte e tutti, cari amiche e amici, salve di nuovo, buongiorno, salve, salve a tutte e tutti, è il vostro capitano San Ten Chan che vi parla ed in modo particolare saluto il mio caro Marco Travaglio, salve, cari amiche ed amici, dal vostro San Ten Chan, salve amiche e amici, salve, cari amiche e amici, salve di nuovo, salve amiche e amici di Dailymotion, salve a tutti, salve amiche e amici di YouTube, cari amiche e amici, chi mi segue e mi vede, credo che già stia capendo che ci ho provato molto gusto a molto gusto ad editare soprattutto i miei video messaggi a tutti i miei seguaci, salve a tutte e tutti amici di Vimeo, salve cari amici, salve, saluti a tutti, gente, salve amiche e amici di YouTube, salve, salve a tutti, salve a tutti, eccoci di nuovo a un'altra colazione, salve, cari amiche e amici di Dailymotion, salve a tutti, eccoci qua a un nuovo pranzo e mangerò del risotto, salve a tutti, salve, cari amici e amici che mi seguite nel mio canale San Ten Chan di YouTube, salve a tutte e tutti, salve a tutti, cari amiche, cari amiche e amici, cari amiche e amici, salve a tutti, a tutti, salve a tutti i miei milioni di degli anni a vischio salve amici salve a tutti i miei canali di無che e amici negli miei canali de portion e Vimeo, cari amiche e amici, ciao, ciao a travaglio salve a tutti e tutti voi serve amiche e amici di google plus salve a tutte e tutti voi chi vi parla è il vostro sant e chan salve 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 a tutti salve marco e il tuo capitano che ti parla quello che deve condurre la nave a buoni vivi e allora rivederci vi lascio mi raccomando non lasciate di seguirmi ed iscrivetevi al mio canale e se potete fate clic nei banner pubblicitari perché così magari posso pagarmi le spese un giorno perché sono disoccupato avrei sempre voluto essere scrittore fin dai 12 anni quindi magari questa forma espressiva per me può essere significare molto quindi se mi volete appoggiare per favore fate clic anche nei banner pubblicitari forse magari così se le mie idee saranno divulgate un editore si denirà di pubblicare le mie opere vi ringrazio ancora e arrivederci amici saluti a tutti animo corcione laura pezzino e lo viola tutti gli amici che commentano i miei video che sempre mi scordo di loro e soprattutto a te marco travaglio mi raccomando sta in forma continua così e se vuoi un collaboratore per il tuo fatto quotidiano chiamami sono disoccupato magari non so accetterei una mensilità di 10 mila euro al mese per pagare tutte le mie spese e fammi sapere ciao magari sono un promettente idromontanelli ha visto che che ti fai scappare un idromontanelli e pensaci giacomino ciao e ciao